ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata dei pronostici di java anche oggi java avrà un compito non semplice perché dovrà indovinare la vincente tra lazio e milan il big match ovviamente c'è anche la scelta del pareggio come al solito solo pronostici difficili per java visto che si è già avvicinata troppo la facciamo allontanare con il rumore dei mezzi pesanti java pipipipipipipipipipipipi brava per rendere ancora più difficoltosa la sfida le ho messo un ostacolo java dovrà saltare questo pacco abbastanza piccolo quindi credo che ci riuscirà per arrivare ai suoi premietti e vediamo speriamo che andrà speriamo che vada tutto bene sei pronta java vai vieni vieni no è un ostacolo troppo alto per lei non riesce a superarlo ok abbiamo ridotto l'ostacolo questo è un pacco che ha preso l'acqua piccolino questo java deve riuscire a superarlo pronta java vai vieni vieni ora vai java dai java che cane pigro no e in tutto ciò va a scegliere il pareggio java io che volevo mostrare le tue doti atletiche eh sì e dove vai e non hai neanche saltato un pacco che era alto un terzo di te ecco vediamo per tornare indietro niente non lo supera neanche indietro e vabbè e java ha scelto il pareggio vero java